E' l'Arcimboldo campione provinciale di Basket Wisp, siamo qui con Lorenzo Morgia, uomo partita, prima una tripola che ha spaccato in due la gara, poi i tiri liberi finali che hanno permesso alla sua squadra di portare a casa questo titolo. Com'è andata questa partita? Siamo partiti un po' a rilento come al solito, però questa volta invece come all'andata siamo riusciti a stare dietro alla squadra avversaria. Nel terzo quarto, che è il nostro quarto dove ci facciamo più difficoltà, abbiamo più difficoltà, invece siamo riusciti ad andare avanti alla fine di tre punti, poi come al solito ci siamo fatti recuperare nel quarto quarto, partita punto a punto, alla fine sono entrati un po' di manestre importanti, due tripe, una di Mattia e poi abbiamo segnato tanti liberi su fallo sistematico. Sono state, hai detto bene, tre partite punto a punto, cosa ha avuto più il Gorarella? Sicuramente la voglia di vincere, c'è stata la voglia di vincere, non si è mai mollato sulle gambe anche quando eravamo più stanchi e la palla poi è entrata, nei momenti decisivi della palla è entrata, siamo stati lucidi nei momenti più importanti. Cosa ti senti dire a questa squadra e a tutti i tuoi compagni? Com'è stata questa stagione? È stata una bellissima stagione, per me tra l'altro la prima con i Perrotz e ora andiamo a festeggiare a cena, andiamo a festeggiare a cena!